A Teramo il destino dello stadio Bonolis è sospeso in un clima di crescente tensione. La convenzione tra il comune di Teramo e la società Soleia, guidata da Franco Iachini, è al centro di un dibattito acceso. Nonostante sia stato raggiunto un accordo sullo stadio tra l'amministrazione comunale e il gestore privato, la situazione, come definita da Iachini, è al momento congelata. Perché congelato vuol dire non che siamo fermi, nel senso che gli accordi sono stati raggiunti già da tempo e quelli sono e quelli rimangono. L'unico problema che io ho sollevato è che naturalmente i tempi sono molto lenti, almeno a nostro avviso, perché riteniamo che questa transazione dovrà essere approvata dall'amministrazione e la stanno ancora scrivendo. Noi abbiamo cercato di contribuire nella scrivere, ma comunque il comune che vuole giustamente fare la regia e si devono fare anche dei contratti collaterali di affitto dello stadio per la parte estiva e per dei locali. E naturalmente ci vogliono dei tempi. Poi una volta raggiunta la transazione con l'amministrazione, noi dobbiamo andare in consiglio comunale, perché altrimenti non vale nulla. È il consiglio comunale sovrano a decidere su queste cose. L'attuale gestore ha evidenziato come questo impasse mantenga in sospeso la squadra di calcio locale, dopo la recente promozione in serie D. C'è una data limite importante che è quella del 10 luglio, 11 luglio, entro cui si deve approvare questa convenzione, altrimenti il termocalcio sarà costretto a produrre una fiducia bancaria per poter accedere allo stadio di circa 250 mila euro. La situazione attuale pone quindi lo stadio in una posizione delicata, con il tempo che scorre inesorabile e la necessità di una risoluzione che si fa sempre più impellente. Noi abbiamo fatto di tutto, siamo venuti incontro, abbiamo cercato di accontentare al massimo il Comune, dargli tutte le soluzioni possibili, tra l'altro noi una convenzione che al Comune non costerà nulla, anzi forse nel tempo, nell'arco dei 10 anni, guadagnerà su questo tipo di convenzione, perché verrà ripagata con i soldi ricavati dagli attuali affitti in essere, più gli affitti che noi andremo a corrispondere per l'utilizzo delle aree commerciali e dello stadio nella parte estiva. Quindi il Comune sta facendo un affare dal punto di vista economico, noi ce l'abbiamo messa tutta, più di questo non possiamo fare, certo noi non cederemo oltre, perché sinceramente abbiamo dato già troppo.